Qualcuno ha detto justice! Pausa, 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 che ha scritto justice, sali in po'. Ciao a tutti, io ora sono fuori, ma mi hanno scritto che state rispondendo alle mie storie di ieri. Volevo solo specificare che non ho attaccato nessuno, ho espresso solo un parere anche perché se non avessi voluto, sì questo ce l'ha scritto, se non avessi voluto che si reagisse a quella clip avrei mandato strike a chi l'aveva caricata. Allora, non ho attaccato nessuno, tesoro. Nel momento in cui scrivi, 4 trentenni dovrebbero avere la sensibilità di trattare le cose in una determinata maniera e poi aggiungi, ma non ho visto quelle live. Nel senso, che ti devo dire? Cioè, se commenta da solo, stiamo rispondendo a questa cosa e aggiungendo altre cose o chiarendole se non hai voglia di recuperarti la live e mezzo. Però non era una live intera, diciamo, saranno 20 minuti complessivi, mezz'ora. No, ma tanto, cioè, noi su di lui, effettivamente, non è che abbiamo detto niente. Ma no. C'è solo scaturito delle riflessioni generali su quello che stanno vedendo, sulla deriva che sta prendendo il gioco d'azzardo su Twitch. Sì, tra l'altro, niente di grave su Twitch. Anche abbastanza morbidi, mi ricordo. La questione non è come ne avete parlato, anche perché dubito abbiate detto Godo deve morire. Eh, appunto. Diretelo. No. Ma tu l'hai scritto, però. Mi siete chiesti come avrebbe potuto reagire una persona che non conoscete, che sicuramente non è contenta dell'episodio, mi sembra ovvio. Ma quello tuo è un episodio che tu hai fatto in live pubblica, rendendo l'intrattenimento per il tuo pubblico, ma anche, di conseguenza, il mondo intero. Come tu stesso hai detto, neanche avevi nulla contro i ricaricamenti. Quindi è lecito che l'abbiamo anche visti, no? Scusami, io qua adesso, adesso intanto, cioè, ripeto... Uno vede una cosa che è suscita a scalpore, ci sarà un motivo per il quale le tue clip sono diventate virali, come dici tu, su TikTok, no? Perché? Perché non è una cosa così normale, zi, vedere una cosa del genere, eh? Allora, visto che ci stai sentendo, poi ripeto, se vuoi, puoi entrare su Discord se trovi il tempo, anche perché mi sembra scorretto nei tuoi confronti. Cioè, noi abbiamo molta più facilità nella risposta. È ovvio che è lecito, io non metto il veto su niente. Allora, ti rispondo con le tue storie. Allora, se non metti il veto, nel momento in cui una persona commenta, già falleva sul discorso che hai fatto tu. Nel momento in cui io dico ABC, io non so come tu lo prenderai, quindi... No, ma, secondo me il discorso è questo, però è difficile risponderti perché ti stai un po' contraddicendo, cioè, tu dici, ho deciso di lasciare alla sensibilità di ognuno la decisione di parlarne o meno. E come farlo? Poi non ho visto come hanno fatto. Cosa hanno detto? Cioè, il come. Il come è fondamentale. Cioè, se tu dici, ok, non l'ho tolta appositamente per farla vedere, per farla commentare, eccetera. Il come è problematico. Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Però questo come non l'hai visto. Quindi di che parli? Io gli chiederei questo come si configura, perché si può anche criticare, no? In modo umano, in un modo civile. Si possono anche fare delle critiche, no? Che non sia dei morì, ovviamente. No, vabbè, ma quella non è una critica. No, è vomito, è diarrea verbale. Però non ho capito, rispondimi. Quindi l'hai vista o non l'hai vista sta live? Intanto stai qui. Se l'hai vista è meglio se lo dici comunque, perché sennò qua non si capisce. Se questo avete ragione. Sembra puro vittimismo. Ma non ho aperto neanche la clip che è andata virale. Eh. E allora perché scrivi? Devo insegnare a quattro trentenni a stare su internet e la sensibilità? Ci siamo rimasti male. Cioè, le parole hanno un peso e tu non sai come uno. Hai urtato la nostra sensibilità. Se fossi stato una persona meno fragile. Ma più fragile. Non è forte per dirlo. Scusa, scusa. Dai, sì, cioè, puro vittimismo. Cioè, io sì, io spero davvero che l'hai vista la live. Sennò, davvero, guarda... No, l'ha scritto. Cioè, ha scritto... Non l'ho vista, l'ha ribadita adesso in chat. Col fatto che non vuole vedere il suo video e col fatto che magari... Ma questo è iper legittimo, l'ha detto pure Simone. Ma c'è sta, è comprensibile. Proprio briviti. Sì, secondo me ha sbagliato. Non posso commentare cose vecchie quando purtroppo mi capita per eventi assurdi. Grazie mille per la sub. Chi era? White Alps, forse. Però vabbè. Comunque, Justice. Non c'è nessuna guerra. Non ti preoccupare. Stavamo commentando pacificamente. La porta è aperta, Justice. Peace. Grazie.